ma dove sono c'è anche una telecamera o c'è una torcia è piena di ragnatele funziona ah che schifo cos'è quello madonna ci sono un botto di ragnatele allora intanto cerchiamo intorno allora qua non trovo niente a parte lo scotch ah che schifo delle ossa e c'è un lucchetto e però serve la chiave devo mettere le mani dentro che schifo no qua non c'è eccola 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 ma intanto passiamo nell'altra stanza che schifo le ragnatele le voglio tagliere che schifo levate levate oh no la torcia aiuta ok ok allora allora la torcia la mettiamo così e adesso e adesso apriamo oh che schifo ci stanno un botto di ragnatele e si stanno attaccando che schifo ah intanto prima di aprire le ragnatele in bocca cerchiamoci attorno qui perchè forse qua c'è un'altra cosa che serve ma non la vediamo ok qua a parte ste ossa che le voglio via che schifo sti ragnatele mi si stanno attaccando va bene qua non trovo nulla qua non trovo nulla quindi direi di partire a a fare questo ok ok si apre forse si si è aperta ok la chiave l'ho già usata e non l'ho tolto vediamo cosa c'è intanto c'è la parete oh che schifo che schifo ci stanno molte ossa ma come mai allora qua c'è un super luchetto ad alta definizione e quindi ho sentito qualcosa aspetta che aspetta che devo le vado in queste cose che schifo intanto ok si sta muovendo oddio si sta muovendo oddio 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 cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è ho trovato qualcosa raga ho trovato oddio aiuto non riesco a prenderlo si sta allungando la parete una chiave una chiave ok aiuto mi sto stringendo aiuto prova 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 non funziona non c'entra si si apre si apre si deve aprire oddio aiuto aiuto oh mio dio che schifo quante ragnatele che schifo aiuto 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 oh oh mio dio quante ragnatele ma che cacchio è sta cosa qua ci sono allora ragioniamo qua ci sono due carte cosa si sta muovendo raga ho sentito qualcosa oddio si sta muovendo la parete cacchio ah ma è aperta è aperta oh si è la fine è la fine raga davvero oddio è stato difficilissimo guardate la parete mi è crollata tutta però ce l'ho fatta ce l'ho fatta raga ragazzo è davvero lasciate mi piace io non so come ci sono entrati innanzitutto però è stato fichissimo va bene ragazzi troverete anche che il link in descrizione vi faccio vedere il video di mia sorella che ha fatto lei cioè la quella aspetta non ve la faccio vedere e quella una cella e spolliciate e vi faccio vedere un giorno il backstage be표 becco becca 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 beccato becca Grazie a tutti.